Salve ragazzi, oggi dirò una battuta stupenda. Allora, sì, allora, un topo, diceva il camaliere. Mi può dare un affogato per piaceri? E il camaliere dice, va bene, certo, la porto subito. Comunque il camaliere non sapeva che cosa era un affogato allora. Allora, dice, apre l'acqua, aspetta che tutto il negozio sia allagato. Poi prende un del formaggio, lo infila dentro dell'acqua di formaggio, viene un bicchiere. Prende la tavola da surf e va in giro a dire, chi è che ha ordinato l'affogato con tutti i topi che stavano affogando? E diceva, è un pazzoide!